La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Salerno per un importo complessivo di oltre 73 mila euro relativo a beni e denaro nella disponibilità di VC di anni 66, indagata per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps, l'attività investigativa dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno con pedinamenti, appostamenti e videoriprese ha permesso infatti di riscontrare che VC conduceva in realtà una vita del tutto normale, incompatibile con la patologia a lei riconosciuta e che quindi la donna aveva percepito indebitamente per oltre sette anni l'indennità di accompagnamento pari a 700 euro mensili riservata ai ciechi assoluti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.